10 chili di droga tra la cucina e il salotto a casa di Cataldo Prester, 46 anni, in città vecchia, Ascish precisamente. 10 chili che si vanno ad aggiungere ai venti sequestrati pochi giorni fa. In azione gli agenti della sezione falchi della squadra mobile. La droga è stata trovata in due momenti durante la perquisizione. I primi 5 chili erano nascosti in una busta di plastica, divisi in 5 involucri in un mobile della cucina. L'altra metà della sostanza stupefacente, sequestrata, era invece nascosta all'interno dell'imbottitura dei cuscini del divano. Meno visibile è stata trovata dagli agenti grazie all'infallibile fiuto dei cani antidroga della Guardia di Finanza. È stato l'andirivieni di giovani noti assuntori dalla casa del 46enne ad attirare l'attenzione dei falchi. L'abitazione si trova nei pressi dell'arco San Martino, via di mezzo e via Duomo, vicoli nel cuore della città vecchia, rimasti per giorni sotto l'osservazione degli agenti. Il 46enne è stato bloccato mentre usciva di casa, dove è stato riportato per la perquisizione, il cui risultato ha reso inevitabile l'arresto.